E poi sono veramente contento di trovare un mio amico. Posso dire che è un mio amico? No, io sono tanto amicizie di un certo libero, tant'è che io e lei non siamo amici. Mi conosce, mi conosce come, anzi ha accettato subito l'invito, ma non ha mai trovato. Non ha avuto la potenza di trovare una scusa per non perdere della nostra amicizia. E' uno dei protagonisti assoluti della sua opera più longeva della nostra storia italiana, quindi parliamo di un diente di un posto al sole, uno dei personaggi più amati, uno di quelli che trovi a teatro, è musicista, sa fare veramente tutto, è simpaticissimo, è una persona per bene, quindi possiamo assolutamente dire che questo di stasera è il punto più basso della sua carriera degli ultimi 25 anni. Signore e signori è con noi, poi spaventano. Grazie, sono troppo gentili, guarda, grazie per avermi invitato, io ci arrivavo troppo a saponare, a metto una specie, mi è andata bene. No, era benissimo, perché poi ci accadde, 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 ci accadde. Vole qui abbiamo un medicato, da qualche altra volta dobbiamo ci accadde. Sì. Sì.